Il primo cittadino Il primo cittadino e amico mio Tu digli che te ci ho mandato io E va, e va Ah, Antone Come tu? Come io? 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 C'era niente, è finito tutto Ah, hai visto quella al supermercato? Fa promotere un nuovo prodotto per i panni E si è avvicinato a un certo punto e mi ha detto Dice Padre La prego Io non ho ancora venduto niente da stamattina che sto qui Se lei potesse tornando in parrocchia a fare pubblicità tra i suoi parrocchiani E invogliarli a venire a comprare questo prodotto Magari Io sono disposta anche a dare metà del mio incasso Antone Tu me conosci Lo sai Con tutto il bene che posso voler a sta buona donna Che poveraccia sta lì a far lavoro suo Ma io non posso andare contro la moralità Non posso andare contro quello che è giusto Io sono una persona pulita e voglio restare pulito E c'hai ragione E proprio per rimanere pulito Consiglio a te e a tutti quelli che stanno a casa Il nuovo detersivo Sky Un detersivo scelto da questa canona Potete trovarlo facilmente nel grande supermercato R1 che vede di Francisco Acacia Mi raccomando Dite che rimanerebbe Dite che rimanerebbe